Ciao a tutti e in questo video andremo ad analizzare e scoprire quanto vale la moneta da 1000 lire del 1990, ossia la moneta, quella in carta che avevamo con Maria Montessori. Questi soldi sono stati stampati dal 1990 al 1998. Ma ora veniamo alla domanda dell'inizio. Quanto vale se abbiamo in casa una moneta da 1000 lire con Maria Montessori? Il suo valore dipende dallo stato di conservazione e dal numero di serie. Infatti ragazzi vi ho spiegato tante volte che il vero e proprio valore di una moneta è proprio lo stato di conservazione. Quindi più è senza righe oppure stropicciamenti eccetera, più ha un alto valore. Quindi più una banconota è piegata o addirittura è scritta o è strappata e meno valore avrà. Le banconote perfette vengono chiamate banconote di fior di stampa. Proprio perché in questo termine si classificano quelle banconote che sono state conservate come fossero appena stampate dalla Banca d'Italia. Dunque ora andiamo a vedere bene quanto può valere. Infatti vi ho detto che il valore della banconota dipende anche dal numero di serie. I colizionisti amano acquistare le banconote della prima serie in numeri di serie più particolari. E le banconote di serie sostitutive. Ora vedremo di fare maggiore chiarezza appunto su questa cosa che vi ho appena spiegato. Le banconote della prima serie sono tutte quelle che iniziano per la lettera AA e terminano con la lettera A. Ciascuna di queste banconote in base al suo stato di conservazione possono valere tra i 2 e i 35 euro per pezzo. Ma attenzione, solo le banconote di fior di stampa possono arrivare a valere fino a 35 euro. Le banconote con i numeri di serie più particolari sono invece quelle che presentano determinati numeri uguali. Facciamo un esempio. Per esempio il numero 1, 1, 1, 1, 1, 1, insomma ripetuto per 6 volte. E questa è una banconota che ha un maggiore valore. Oppure numeri sequenziali, per esempio 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Che presentano il numero 2. Facciamo un esempio. Abbiamo 5 zeri e il numero 2 al suo interno di questo numero. Dove troviamo questo numero? Lo troviamo qui in basso sia a sinistra che a destra. Quindi ragazzi, grazie alla combinazione di questi numeri abbiamo un mercato per determinare un determinato valore alle nostre monete. Infatti potrebbero valere dai 50 e anche ai 100 euro. Per quello che riguarda i numeri da 1, quindi le banconote che hanno il numero 0, 0, 5 volte e 1, il valore di fior di stampa potrebbe arrivare fino a 400 euro. Quindi ragazzi, come vi ho spiegato fino adesso, ci sono delle monete particolari con determinate serie. Infatti le più quotate sono quelle che hanno i numeri, per esempio, XA e poi finiscono con A, o XB e A, XC e A e XDA, che possono valere fino a 200 euro, se in condizioni però fior di stampa, ossia paragonabili a come essere appena stampate. Mentre il valore cala sui 150 euro per condizioni appena meno perfette, però vi ricordo sempre queste parole che sono appena perfette, cioè nel senso che devono essere quasi nuove. Altre serie che iniziano invece per X valgono sensibilmente di meno, ma riescono comunque a toccare i 35-40 euro. Tutte le altre banconote, nelle medesime condizioni, valgono comunque dai 15 ai 20 euro. Ok ragazzi, spero di essere stata chiara. Se avete delle domande, naturalmente vi invito a farle sempre qui sotto nei commenti. Naturalmente se ancora non vi siete iscritti al canale, fatelo subito e attivate tutte le campanelle. Ciao a tutti e alla prossima!